Cazza bloccata! Cerchiamo ancora! Bene, Flash è al sicuro. Tenetelo d'occhio, gente. Potremmo provare da dietro. Il miglior porno mai visto! Oh, cazzo! Questa porta non reggerà. Dobbiamo abarricarla. Tu stai qui, bello! Vedi questo? Ho passato un sacco di tempo sognando come poterlo usare per ucciderti. Tu sei mio, ora. E sei proprio in un mare di... Merda! Ciao, ragazzi! Stavamo solo parlando un po'. Ho detto shh! Sentite! Aiuto! Ehi, Bruce! Usi ancora le ombre per spaventare a morte noi criminali? Tranquilli, Batman non è un assassino! Ti senti bene? Sono la rete. Sono la rete. Sono la rete. Batman.